ciao ragazzi allora oggi ho un acer vediamo il modello allora Aspire 551 series e vi faccio vedere il problema allora modello esatto 5551G attacco alimentazione schiaccio pulsante si sente la ventola comincia a girare dvd però a video non si vede niente allora spegniamo tutto e il lavoro che dobbiamo fare è smontare portatile e penso che c'è il problema con qualche chip grafico o l'altro chip come si chiama Nord Bridge e dobbiamo fare questa prova per scoprire esattamente dove sta il problema ciao ciao Grazie a tutti. 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 E adesso... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.